sì sì dimmi 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 ti sento no scusate sto con la terra sì sì la madre terra sto con lei sì dimmi tutto allora aspetta che sto prendendo nota alla meno 26 tonnellate di co2 ok ok perfetto benissimo sì allora poi meno ho segnato 6 8 milioni di tonnellate di plastica in meno naturalmente vuoi ok d'accordo vediamo quello che si potrà fare meno 130 mila tonnellate di pesticidi questi però come facciamo va bene va bene ok 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 stai calma stai calma va bene ok vediamo quello che si potrà fare meno poi dimmi 50 milioni di tonnellate di cosa di rifiuti elettronici e vabbè questo pure vediamo perché stiamo usando pure noi adesso cose elettroniche non so che dirti vabbè vediamo entro quanto è addirittura non lo so ce la facciamo un po' di freddo